Il Premio Nazionale Donna 2023, organizzato per la quinta edizione dalla Hollus Antonio Padovani, è andato a due donne che hanno incarnato la loro vita sui valori della legalità, della giustizia, della lotta alle mafie. Federica Angeli, giornalista di Repubblica che dal 2013 vive sotto scorta per le sue inchieste contro il clan degli Spada e non solo, e Tina Montinaro, vedova di Antonio, capo scorta del giudice Giovanni Falcone, che non era presente per motivi personali. Tra i presenti anche il generale dell'arma dei Carabinieri Antonio Cornacchia, amico personale del giudice Falcone, colui che peraltro ha ritrovato il corpo di Aldomoro e che arrestò Renato Vallanzasca. La giornalista Monica Pelliccione ha guidato e presenti in un pomeriggio ricco di contenuti e incentrato sul ruolo della donna. Accanto a lei il prefetto Cinzia Torraco, Fabrizia Franca Bandera, presidente della Corte d'Appello, il magistrato Roberta Davolio, oltre ovviamente al presidente della Hollus Gianni Padovani. Siamo con Gianni Padovani, presidente della Hollus Antonio Padovani. Il premio donna è giunto alla quinta edizione, anche quest'anno ci sono delle premiazioni, c'è sempre la figura della donna, avete avuto anche dei focus nei vari anni. Quest'anno si è puntato sulla legalità, sul ruolo della donna, ma anche sull'inculcare i valori della legalità. Chi avete premiato evidenzia proprio questa volontà quest'anno? Sì, come ogni anno noi premiamo personaggi femminili che comunque si sono distinte nell'orio ambiti sia professionali che lavorativi per la qualità che hanno dimostrato nel corso dell'anno. Quest'anno abbiamo deciso di toccare un tema molto delicato, che è quello della giustizia e della legalità. lo abbiamo fatto per lanciare un messaggio forte contro qualsiasi forma di mafia, sia quella più visibile, quindi quella degli attentati, delle azioni dirette, ma soprattutto anche per quella intrinseca, quella dei cosiddetti colletti bianchi, delle discriminazioni, delle oppressioni. e non potevamo non scegliere due donne che hanno fatto della legalità o la loro vita. Hanno anche messo da parte la propria libertà personale e si sono contraddistinte per portare avanti valori importanti come quelli della giustizia e della verità. e sono appunto Federica Angeli, giornalista della Repubblica, che dal 2013 è sottoscorta per le inchieste che ha fatto sulla criminalità ostiense testimoniando contro il clan Spada. E poi Tina Montinaro, la moglie di Antonio Montinaro, caposcorta di Giovanni Falcone, che è morto nella strage di Capaci nel 1992. Ecco, questo è un premio che ricorda suo papà, che questi valori, insomma, la difesa degli altri, dei più deboli, li ha sempre avuti. Quindi io come ogni anno le chiedo anche un ricordo, perché il premio va avanti, cresce, vuol dire che state facendo bene su quella strada che lui già aveva tracciato. Sì, il premio è dedicato a lui, perché noi vogliamo portare avanti un valore che ci ha sempre trasmesso, che è quello proprio della cultura del rispetto della donna, ma anche della parte più debole della società. è il motivo per il quale cerchiamo di far crescere il premio e di portare avanti le sue idee, che erano quelle appunto di dare visibilità e spazio alle donne che meritano. Per lui la donna aveva un valore principale, importante, sia in famiglia che in politica, che negli ambienti lavorativi. E noi non possiamo fare altro che ricordarlo con questo premio. Lei come ha spiegato ai suoi figli, per esempio, questa cosa? Perché, insomma, immagino che magari per lei sia vissuta in un modo, ma per dei ragazzi diversamente. Beh, in realtà loro erano piccolini dieci anni fa, avevano quattro, sei e otto anni. Quindi è stato relativamente facile, nel senso che sulla falsariga della vita è bella, ho spiegato loro che la mamma aveva ricevuto in premio degli autisti per dei bellissimi articoli che aveva fatto. E quindi è iniziato questo gioco, no? Per arrivare al premio finale, che nel nostro caso non era appunto il carroarmato di Benigni, ma era una villa che, diciamo, ancora non è arrivata, perché poi fortunatamente sono arrivati gli arresti, le catture, loro sono cresciuti, e quindi hanno capito che quel gioco era solo finalizzato a non far sì che la paura si impossessasse di loro. E quindi, diciamo, abbiamo trasformato un dramma che ci è piovuto addosso nel giro di poche ore, perché io sono stata messa sotto scorta veramente nel giro di sei ore, in un gioco per sdrammatizzare e è servito anche a me e mio marito. Ecco, la paura c'è, io immagino. Come però si va avanti, e non dico combatte, ma ci si convive? Ma io penso questo, che la paura e il coraggio sono due facce della stessa medaglia, e sta comunque a noi decidere da quale parte afferrarla. Accidenti, se non ci fosse la paura sarebbe incoscienza, quindi è ovvio che c'è e ci deve anche essere, perché è un'emozione comunque che ti permette di accendere, come dire, gli alert, e di fare in modo che tu possa stare attento a tutto ciò che si muove attorno a te, la paura. Immaginiamo di dover tornare a casa con il buio, in una via buia, è ovvio che si attivano tutti quei meccanismi di protezione e lo stesso è in questa nostra situazione. Però, diciamo, come diceva Falcone, la mafia è un fenomeno umano e come tale è un inizio e una fine, quindi anche da cronista, deformazione professionale, il coraggio mi è venuto da questa frase, cioè la curiosità, la voglia di andare a vedere come finiva, se c'era una fine, che poteva essere la mia o la loro. In questo caso è stata la loro, ovviamente con il carcere. Senta, lei era amico personale del giudice Falcone, di recente c'è stato questo grande colpo dei carabinieri, l'arresto di Matteo Messina Denaro, che cosa ha pensato lei e che cosa avrà pensato il giudice Falcone? Il giudice Falcone, in sintesi, io ebbi modo di conoscerlo nel gennaio del 79, in occasione dell'assassino del mio collega, il colonnello Giuseppe Russo. Lui comandava il nucleo investigativo Palermo, io comandavo quello di Roma. Ci siamo incontrati tante volte per scampiarci delle cose, perché anche a Roma noi ci siamo interessati dai mafiosi. Ebbene, conobbi allora il Giovanni Falcone. Lui ha avuto delle vicissitudini che capita soltanto a chi ha inteso credere in quello che faceva, e lui credeva in quello che faceva. Si è messo ovviamente in evidenza, e questo ha dispiaciuto anche a chi gli stava vicino. E allora, non so se oggi qualcuno me lo consenterà, però adesso glielo dico. Io poi lo incontrai quanto Martelli, Claudio Martelli, ministro di Grazie e Giustizia, ritenne di sollevarlo dall'incarico a Palermo, perché per lui il terreno era diventato difficile. Per cui se ne andò a Roma. Io con lui spesso mi incontravo la sera a consumare qualche pizza. E una sera, proprio nel Natale antecedente, il 92, quando poi l'anno successivo lui morì, ebbene io disse, senti Giovanni, tu sei venuto qui, c'hai l'incarico di dirigere l'ufficio affari penali dell'amministra, però ricordati, non solo i mafiosi di laggiù, anche quelli di qua, ma quelli di qua, del CSM, che tu conosci molto bene, e quelli che lavorano con te nel ministero, ti seguono, perché sono convinte che tu continua, nonostante hai affari penali a livello legislativo, eccetera, tu continua a interessarti della mafia. e ti seguono. Quando lui ha detto, lui sei impallidito, lui fumava continuamente, il fumo dava fastidio perché non fumavo, e allora dice, ma non è che sorvegliano te, anche tu hai subito degli attentati, e quindi, no, lascia perdere, io non ti preoccupare. Dice, sa, io ho i miei, stanno tutti fuori a guardarci, a me e a te. Io ho la scorta, ovviamente. Ebbene, questo è stato l'antefatto, dopo, ci siamo incontrati dopo Natale, nel 91, il gennaio 91, prima del 17, dopo il 17 gennaio, dice, sì, Antonio, io mi chiamo Antonio, dice, sai, molti mi hanno sconsigliato di non avanzare in stanza di adire anche al posto di procuratore della DNA, Direzione Nazionale Antimafia. Io l'ho voluto inoltrare. Dico, hai fatto bene da una parte, se me lo dicevi prima, ti avrei sconsigliato. Perché? Allora, quello che ho detto, non l'hai capito, dissi, Giovanna, tu sei un personaggio di tutto rispetto, tu ti sei dato troppo da fare, hai creduto in quello che tu hai fatto e tu lo devi pagare, dissi io. Il 23 maggio successivo lo ammazzarono. Monica Pediccioni ha sempre accompagnato questo premio in queste cinque edizioni, un premio che è cresciuto, quest'anno avete scelto un focus in particolare sulla giustizia, sulle legalità, ma c'è sempre la donna al centro e premiate due donne, insomma, che tanto hanno dato in termini di legalità e giustizia. È bello vedere come pian piano però i valori, i contributi crescano sempre di più. Sì, hai centrato perfettamente il tema. Io sono stata premiata nella prima edizione, sono stata trascinata dentro dal presidente della Ollus, Gianni Padovani, con grandissimo piacere anche nell'organizzazione poi del premio, che sta diventando, lo posso dire, una delle manifestazioni culturalmente, socialmente forse più importanti dell'Abruzzo, che dallo scorso anno ha una caratura nazionale, premia donne e personaggi che hanno dato molto sul piano nazionale e non solo con il loro operato e i nomi che abbiamo oggi sono nomi importanti, ma il tema scelto coniuga appunto la giustizia, la libertà, la legalità e quindi è un tema dalla grande valenza sociale. Al centro sempre la donna, perché la mission, la missione della Ollus Antonio Padovani, che è una Ollus nata sulla scia dell'operato del papà di Gianni, quindi di Antonio, era proprio quella di valorizzare la donna in tutte le sue sfere d'azione, in tutti gli ambiti e soprattutto dare alla donna l'opportunità di agire professionalmente, di realizzarsi, di vivere una vita liberamente ed è questa proprio la mission del premio, è proprio questa.